Un saluto a tutti ragazzi, benvenuti e bentornati sul mio canale da Michele. Ben ritrovati per questo nuovo appuntamento con la Lancia Stratos HF Livrealitalia numero 10, la regina dei rally. È un modello in scala 1 a 8, l'edizione è Centauria e l'uscita è la numero 59. Prima di farvi vedere la sessione di montaggio, che è molto semplice, anche se io ho notato che non è spiegata molto bene la posizione di questi due componenti, però non è un problema perché basta guardare il pezzo e vedere dove poi va collocato e lo vedremo poi insieme e tutto si riesce comunque a risolvere. Mentre vi faccio vedere l'interno del fascicolo, questa intanto è la seconda di copertina con i numeri utili e i servizi, informazioni importanti per chiedere arretrati, servizi abbonamenti, numeri di telefono che troverete in ogni collezione che deciderete di intraprendere. Ringrazio tutti i miei iscritti, tutte le persone che mi visualizzano. Grazie ragazzi perché siete voi la vita del canale e alle persone che mi guardano ma non si iscrivono, sempre che ne abbiano piacere dico questo. Ragazzi iscrivetevi al canale, attivate la campanella, sarete così aggiornati su ogni mio nuovo video pubblicato. Date anche un'occhiata alla playlist dove potrete trovare altri modelli e non soltanto di auto. E infine se ci fosse qualcuno interessato al montaggio del proprio modellino mi contatti privatamente. Grazie. Ecco qui, questo è quello che poi separa l'abitacolo dal motore, cioè la paratia posteriore. E queste le due uniche mezze pagine di questa iconica macchina da rally. Ricordo che il pilota che vinse il rally di Monte Carlo nel 1984, chiedo scusa, mi sono confuso con l'Audi A4 che vinse il rally di Monte Carlo nel 1984. La Lancia Stratos lo vinse nel 1976 con il pilota Sandro Munari e il suo navigatore Silvio Maiga. Ecco qui. Alla fine restate con me perché prendo tutto quello che ho montato fino a questa uscita, la 59, e poi ci salutiamo. Ecco qui, abbiamo un bel pezzo di plastica, bello perché è molto grande, e quasi la larghezza dell'auto. Poi abbiamo una serie di viti SP da avvitare nella plastica. Vedete lettera finale P, indica il materiale nel quale la vite andrà avvitata. E questi sono i due ganci, che in realtà sono le due staffe che poi andranno una avvitata, un foro andrà avvitato qui, adesso andiamo a vedere, e l'altro andrà avvitato nel metallo, nel telaio, parte del telaio del motore, del sostegno del motore. Bene, prendiamo intanto, prendiamo al plurale perché mi rivolgo alle persone che lo stanno montando insieme a me. Quindi prendiamo due viti SP, ecco qui. Sapete che io uso crearmi filetti senza nessun tipo di lubrificante perché qui è plastica, però attenzione, se vorrete farlo, non è importante farlo perché in questo caso la plastica è molto, come posso dire, dolce, ecco, è morbida, quindi potrete anche non filettare, ma qualora decideste di farlo, ricordatevi sempre quando non c'è il foro passante dietro e abbiamo uno spessore da, vedete, da interporre tra uno, tra la vite e la plastica, non arrivate mai fino alla fine perché danneggiate il pezzo dietro, quindi fate attenzione. Ecco, adesso andiamo a prendere quelli che loro chiamano ganci e che io preferisco chiamarle staffe di supporto, eccole qui. Vedete? Loro ci fanno vedere quasi come se la staffa fosse inclinata verso destra, così, ma in realtà non è questo il punto, non è inclinata verso destra perché la staffa se la mettiamo su un punto d'appoggio in piano è perfettamente perpendicolare al piano d'appoggio, vedete? Non fa questo lavoro qui, per capirci. Aspettate che prendo l'altro, eccolo qui. Non fa questo lavoro qui. Nella foto ci fanno vedere così. Invece il punto importante è questo, guardate. La vite che andremo a mettere per avvitare, qui abbiamo queste due parti, questa e questa che sale, dove questa è più corta e questa è più lunga. Oh, scusatemi, non stavo inquadrando. Eh, aspettate. Ve lo ripeto. Allora, guardate. Le staffe sono perfettamente perpendicolari al piano d'appoggio, quindi non fanno questo qui, questo lavoro qui, come ci fanno vedere sulle informazioni. È forviante quella foto. Ci porta, diciamo, non in errore perché è impossibile poi sbagliare, ma ci porta andare a pensare come mai la mia non è inclinata. Allora, fate così, guardate. L'inclinazione è questa, è dietro, non è davanti. L'avete visto? Quindi questa parte qui va messa contro il pezzo. Adesso vi faccio vedere. Metto una vite. Ecco. Così dovete metterla. Questa è la parte che deve rimanere libera per adesso e che poi invece andrà ad avvitarsi sul telaio. Poi vi farò vedere. Non dovete assolutamente mettere al contrario, ovviamente. Non importa se metterete questa da quest'altra parte o così. Non cambia nulla. Sono speculari, sono identiche, quindi non vi potete sbagliare. Quindi facciamo la stessa cosa anche di qua. Il montaggio è semplicissimo, però molte volte le cose semplici sono spiegate in maniera non ottimale. Ecco qua. Chiaro? Questa è l'inclinazione che dovete avere. Adesso il montaggio è terminato. Il pezzo, per avere la certezza di averlo montato correttamente, un'ulteriore certezza, perché in realtà non serve, perché è così che va montato, andrà poi collocato qui. Ecco. dove, se guardiamo, ecco. Vedete i fuori sotto? È perfetto. Questa sarà poi la giusta collocazione della paratia. Guardate che meraviglia. È bellissimo questo modello. È bellissimo. Fate ancora in tempo a farlo, ragazzi, perché è bellissimo. Datemi retta. Adesso prendo anche il resto. Intanto ve la faccio prima vedere anche da sotto. eccola qui. Questi poi sono i tubi da raffreddamento andate a ritorno che andranno sicuramente al radiatore. Affreddamento del motore, ovviamente. Guardate che spettacolo che è questo modellino. L'estintore sembra vero. I ganci sono davvero in acciaio. Le staffe, bellissime, bellissime. Prendiamo il resto. Ho ripetuto due volte questa frase, prendiamo il resto, perché mi dimentico sempre che quando cambio le inquadrature mentre parlo, mi salta la voce. E allora ho preferito ripeterla due volte la stessa frase. Sto arrivando. Prendo tutto quello che mi serve. Quindi, ecco qua, questo è il pacco batterie, che va appoggiato poi così, copertura a fari secondari, e grazie a questi ganci metallici presenti qui e sul musetto anteriore e con l'ausilio degli elastici che ci sono stati dati in questa uscita, mantendranno in posizione la copertura. Telecomando. Spegnimento. Non è l'accensione. L'accensione è questa. Fari primari. Spegnimento. Fari primari, quindi questi. Fari secondari. I quattro faretti. Eccoli qua. Vi volevo far leggere la scritta carello. Devo spostare perché mi mette a fuoco quello dietro. Così forse ce la facciamo. Vediamo un po'. Eccola lì. Ditemi voi se non vi sembrano veramente fatti in vetro. Bellissimi. Ed ecco qua la copertura. Accensione. Quindi accensione della macchina e partenza della macchina con l'inserimento delle marce. Sentitelo fino alla fine come ve l'ho fatto sentire più volte perché è davvero emozionante, soprattutto per chi come me lo ha vissuto nella sua infanzia quando li vedeva correre quando li vedeva correre in valle d'Aosta. Clacson e questo che è il pedale del freno. Gli stop. Questa è la scheda elettronica. Interruttore primario. Accensione e spegnimento. Questa è la cassa l'altoparlante per riprodurre il clacson e l'accensione e l'accelerazione con l'inserimento marce. Quindi il sonoro. Ecco qui. Credo di avergli fatto vedere tutto. Ti tenevo soltanto, se ce la faccio, manca anche il volante arrivo. Eccolo qua. In metallo verniciato. Così. e così ve la volevo far vedere con i quattro fari secondari ecco guardate che meraviglia ditemi se non è uno spettacolo bellissima mamma mia che bella allora metto nuovamente la parattia così vado a fare la foto per la copertina quella che dovrebbe accattivarsi il nuovo utente diciamo così che passando dal canale di Michela Armonica guardando la foto dice che bella quasi quasi apro il video sarebbe bello che molti lo facessero ecco qua perfetto questo è il montaggio ottenuto fino al numero 59 di questa meravigliosa regina dei rally bellissima sono veramente soddisfatto anche il mio iscritto Giovanni me l'ha commissionata insieme alla Audi 4 a trazione integrale quella della quale vi parlavo prima bene ragazzi io vi ringrazio del vostro tempo un abbraccio a voi tutti un saluto a tutti i vostri cari più cari e mi raccomando sempre che ne abbiate piacere è importante che abbiate il piacere altrimenti non serve nulla iscrivetevi al canale e attivate la campanella sarete così aggiornati su ogni mio nuovo video pubblicato e di video io ne pubblico non pochi la qualità è quella che è lo so ne sono consapevole se vi piacciono i contenuti per quello che riesco a fare io ne sarò più che lieto ciao a tutti ragazzi al prossimo video ciao a tutti